Io sono Elisabetta Serra, sono la Presidente dell'Associazione BMA che gestisce per conto della Regione Piemonte un Ecomuseo. Ecomuseo è un ente che si occupa della valorizzazione delle memorie di un territorio e siamo stati chiamati dalla Fondazione Monferrato Stage a collaborare per appunto questo particolare aspetto che è quindi la valorizzazione della memoria. Ma noi intendendo la memoria come un fatto in evoluzione che cambia continuamente con ogni sorta di influssi abbiamo sposato perfettamente il progetto di Federico Ferrero che è a leggere il cibo in una misura moderna e facendo intendere come la tradizione sia frutto di continui tradimenti, di continue evoluzioni con l'introduzione di nuovi alimenti. Se oggi riteniamo tradizionale la polenta che è fatta col mais, chissà che fra 200-300 anni non riteneremo il sushi come un prodotto tipico del territorio. Quindi vi aspettiamo numerosi durante le serate organizzate del Monferrato Stage e soprattutto venite affamati!